Alla fine il Consiglio regionale della Toscana licenzia le modifiche statutarie, quelle che prevedono l'istituzione della figura del sottosegretario. Un'opportunità per il Presidente che potrà sceglierlo tra i consiglieri eletti. Sarà una figura che potrà partecipare senza diritto di voto alle sedute di giunta. L'altra modifica è l'allargamento dell'ufficio di Presidenza che passa da 5 a 7 membri. Di questi 4 avranno le funzioni di segretario, due invece di questore. Ma il voto, che prevede due passaggi nel Consiglio a distanza di tempo, vede novità rispetto alla prima lettura. La riforma passa con 24 voti favorevoli, quelli delle PD di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Il no arriva da Fratelli d'Italia, Italia Viva e dalla consigliera Tozzi del gruppo misto. Non partecipano al voto invece la Lega e il consigliere Bugliani del Partito Democratico. Un passaggio importante, commenta il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, che così giudica il dato politico di questo voto. Io ho sempre cercato di mandare questo messaggio che lo statuto, come tutte le regole del gioco, bisogna provare a cambiarle a larga maggioranza, non ci devono essere forzature. È successa però una cosa strana oggi, nel senso che la Lega e Fratelli d'Italia, che alla prima votazione avevano votato favorevolmente, stamani mi hanno comunicato alle 10, prima Fratelli d'Italia, poi anche la Lega che non avrebbero votato. Quindi questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi per arrivare a una larga maggioranza si è poi tradotto in un voto e anche questo mi ha sorpreso, nel cambiamento del voto del Movimento 5 Stelle. Anche questo deciso in aula, voi stenterete a crederci, ma tutto questo è successo dalle 10 alle 12 mentre stavamo votando. Quindi nessun cambio di maggioranza. La maggioranza è, perlomeno dal mio punto di vista, è solida con Italia Viva. È evidente che il Movimento 5 Stelle, dopo il voto sui grandi elettori, ci ha mandato un altro messaggio di attenzione rispetto ai lavori istituzionali che noi stiamo portando avanti, ma detto questo non cambia nulla. Il PD è sempre stato coerente, non gli altri, dice il capogruppo Vincenzo Ceccarelli. Tra l'altro approdando ad una soluzione che aveva tenuto conto di non aumentare i costi, almeno dal punto di vista delle indennità, sull'eccitazione che era stata fatta anche dalle opposizioni e che può dare comunque la possibilità di un contributo in più nell'ambito della Giunta attraverso un sottosegretario e poi l'aspetto che ho già ricordato dell'ufficio di Presidenza. La cosa invece stupefacente è lo spappolamento della minoranza che si è presentata dopo due mesi e mezzo cambiando opinione, una minoranza con tre posizioni diverse che probabilmente ha risentito di quelli che sono stati i loro fallimenti romani nell'ambito della Presidenza della Repubblica. Ma non è così che si sta nelle istituzioni, ciò che accade a Roma, ciò che fa parte del dibattito, del confronto politico, del spappolamento, come loro hanno detto, della coalizione centrodestra non può ripercuotersi sulle istituzioni regionali, in questo caso sulle istituzioni della Toscana. Il PD però conta la defezione di Bugliani, presidente della Commissione Affari Istituzionali che decide di non partecipare al voto, ragioni di metodo e di merito, sottolinea. Si è deciso di non dare seguito alla riforma dello Statuto così come voluta dal Presidente della Giunta regionale che prevedeva l'allineamento nella composizione della Giunta ai requisiti previsti dalla legge nazionale con l'argomentazione assolutamente legittima e rispettabile della necessità di contenere i costi della politica. Se quell'argomento allora aveva un senso in quel momento deve avere un senso anche oggi e siccome oggi questa riforma dello Statuto oltre alla creazione di un sottosegretario che era già nell'impianto originario prevede un allargamento dell'ufficio di presidenza, quei costi ci saranno e saranno importanti collegate soprattutto alle strutture e al personale. E allora se all'epoca poteva valere quel ragionamento quel ragionamento a maggior ragione deve valere anche adesso. Fermo restando che reputo assolutamente incongruo un ufficio di presidenza fatto da sette membri quando il Consiglio regionale ha 40 consiglieri in aula. Mi pare francamente sproporzionato. Nella maggioranza c'è anche il no di Italia viva. Noi volevamo che la regione toscana migliorasse nel proprio funzionamento di governo per questo una battaglia che è durata in solitaria per oltre un anno, un anno e mezzo. Siamo stati correnti, eravamo contrari un anno e mezzo fa, abbiamo votato contro anche oggi. Nel frattempo è successo tutto il contrario di tutto. Fra la prima e la seconda votazione abbiamo visto partiti spaccarsi, gran parte dei partiti cambiare la loro opinione, chi per un interesse di carattere personale, chi per cercare di ottenere qualcosa di un ridisegno di un assetto di governo che non ci convince. Avevamo chiesto di fermarsi, di fermarsi, avevamo chiesto di fare le cose tutte insieme. Alla fine questa riforma passa per un voto di margine, non è mai successo nella storia della regione toscana, con un così basso numero di votanti che si vada a modificare quella che è la carta fondamentale di una regione, come modificare la Costituzione a livello nazionale. Di questo siamo dispiaciuti, ma nel contempo è coerente della nostra battaglia. Nel merito della questione dicevamo che il nono assessore non serviva, dicevamo che i sottosegretari se hanno un senso di esistere devono essere esterni e non interni e soprattutto ponevamo una questione è quella della parità di genere che secondo noi è dirimente da istituire in termini statutari per renderla vincolante alla politica. Cambia invece posizione rispetto alla prima lettura il Movimento 5 Stelle che approva la riforma. Tutto ciò che può portare a un miglioramento anche della gestione dei rapporti, a un miglioramento del lavoro del Consiglio regionale è assolutamente utile perché lo ricordo, Giunta e Consiglio regionale sono due organi separati e il Consiglio regionale si occupa della rappresentanza sui territori. È fondamentale oggi riuscire a portare i territori e l'attenzione sui territori qui a Firenze. Credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali per cercare di riportare le periferie al centro. Questo nuovo statuto sarebbe ottimale che garantisse una maggiore presenza, una maggiore rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale, nell'ufficio di Presidenza che è un luogo in cui si prendono decisioni molto importanti per il funzionamento dell'intero organo e non sarebbe male, riconosco, se ci fosse anche una maggiore rappresentanza di genere. Dispiace che non sia stato chiesto il parere alle pari opportunità perché sicuramente avrebbero dato questa indicazione. Spero che ci sia questa attenzione. Nel centro-destra diversificate le posizioni, la Lega non ha partecipato al voto. Noi stamani abbiamo deciso di non votare perché riteniamo che comunque ci fosse bisogno, ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD, visto che hanno chiesto interruzione proprio per questo, di un passaggio, di calmare alcuni animi e di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa. E poi il PD è tornato e ha voluto votare, allora noi abbiamo deciso di lasciare a loro il voto e di andare oltre. Certo, oggi è emerso un po' di confusione, sembra che il 5 Stelle sia entrato in maggioranza e sia uscito dalla maggioranza l'Italia Viva stando a quanto vediamo dal voto, anche perché la proposta è in seconda lettura, dalla prima alla seconda non si può modificare ed evidentemente il 5 Stelle che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore. Forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza di questore spette a una persona del Movimento 5 Stelle? Può darsi, aspettiamo, magari chiederemo anche lumi sul fatto di chi rimane in opposizione e chi va in maggioranza tra di loro. Forse Italia vota sì, siamo per una fase costituente, dice il capogruppo. Rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta avevamo sollevato alcune obiezioni, il non assessore che avrebbe portato ad un aumento dei costi, il sottosegretario esterno che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'Ufficio di Presidenza perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione di tutte le forze politiche, delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco perché rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forse Italia alla modifica. Il centro-destra è diviso, commenta Torselli di Fratelli d'Italia. È vero, ma anche nel centro-sinistra le divisioni non mancano, aggiunge. La modifica dello statuto è un qualcosa che interessava alla maggioranza. La maggioranza voleva modificare lo statuto del Consiglio regionale della Toscana per introdurre la figura del sottosegretario, che è un tema che interessa a chi governa. Noi come opposizione avevamo chiesto due cose. Che lo statuto non venisse modificato a colpi di maggioranza, ma venisse modificato con l'accordo di tutta l'Aula e che vi fossero anche l'introduzione di alcune forme di tutela per le minoranze. Per esempio l'allargamento dell'ufficio di presidenza a costo zero e l'introduzione quindi di una figura in più a tutelare le minoranze in ufficio di presidenza. Tutte le forze politiche erano concordi all'inizio su questo percorso, tranne il Movimento 5 Stelle e scopriamo che Italia Viva, che fa parte della maggioranza, è contraria all'allargamento, che un consigliere regionale del Partito Democratico, che non è un consigliere qualsiasi, ma è il presidente della Commissione che ha fatto l'istruttoria, è contrario alla riforma dello statuto. A quel punto scusateci, ma fratelli d'Italia, questa roba non la vota. Ecco perché abbiamo deciso di votare contrari anche noi. Infine la consigliera Tozzi del gruppo Misto spiega le ragioni del suo no. Io credo che la nostra attività di legislatori debba essere animata da un profondo spirito di formatore. Non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito, ripeto, a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani. Perché è chiaro che l'ampliamento dell'ufficio di presidenza, una delle modifiche che noi contestiamo più fortemente, perché di fatto porta un organismo interno ad un ampliamento maggiore, senza che per contro si pensi ad esempio ad ampliare la questione della rappresentatività territoriale che invece spetta a ciascun consigliere. La Toscana non è terra di mafia ma è un luogo in cui gli interessi di attività mafiosi e criminali sono forti. E allora il messaggio che noi mandiamo a tutti, specialmente ai ragazzi più giovani, ma lo mandiamo alle altre istituzioni, alle imprese, è che ognuno di noi deve essere sentinella della legalità. E questo è un messaggio forte, è un messaggio di formazione e di informazione, perché la progettualità che libera, che poi si è giudicato il bando e ci ha presentato, è esattamente questa, andare nelle scuole, parlare con le ragazze, con i ragazzi, trasmettere il messaggio che ognuno di noi può essere un argine, da quando si è piccoli a quando si ha un ruolo nelle istituzioni. Credo che sia qualcosa di bello, che abbiamo voluto insieme a tutto l'ufficio di presidenza e senza distinzione di colore politico, perché la lotta alla criminalità organizzata deve essere di tutti. Il progetto Polis di Libera Toscana si è giudicato il bando del Consiglio regionale Toscano Educazione alla Legalità, istituito con i fondi più di 70.000 euro derivanti dai rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri nel periodo del lockdown, un bando straordinario che testimonia la forte presa di coscienza dei consiglieri toscani riguardo all'importanza di diffondere la cultura della legalità fra i giovani. C'è poi però una strategia a lungo termine che gioca sulla dimensione educativa, sulla valenza di tutta una serie di iniziative con cui le associazioni incontrano le studentesse e gli studenti, la formazione delle insegnanti e degli insegnanti, insomma una dinamica formativa che fra l'altro si ricorda bene che come ricordava ieri il Presidente nazionale di Libera Donciotti intervenendo alla città metropolitana bisogna parlare veramente di una città educativa, di una serie di comunità e di collettività che riprendono in mano l'educazione dei più giovani e questa prospettiva dell'educazione culturale, del rifiuto della cultura mafiosa, della cultura del privilegio, della cultura anche della corruzione politica, di un senso di legalità sempre più vago. Ecco, queste sono tutte realtà fondamentali per costruire appunto futuro. Il progetto Polista prevede più azioni. La prima azione fondamentale è quella dell'educazione alla legalità nelle scuole, educazione alla legalità, la giustizia sociale. Noi andiamo nelle scuole e cerchiamo di capire la percezione del fenomeno mafioso degli studenti, cerchiamo di indirizzarli e di capire criticamente anche che cosa pensano loro e di provare a raccontargli quella che è stata anche la storia del fenomeno mafioso in Italia. E poi prevede altre azioni come per esempio i campi di estate liberi all'interno dei beni confiscati alle mafie. Faremo cinque campi in tutta la regione toscana quest'estate dove potranno partecipare non soltanto giovani toscani ma anche giovani provenienti da altre parti d'Italia proprio per vedere quello che c'è in Toscana e quello che facciamo. Prevede un percorso di formazione anche per il Parlamento degli studenti della regione toscana che affronteranno tutta una serie di temi con esperti, con studiosi su appunto antimafia sociale, cittadinanza attiva e poi prevede anche un momento dove i giovani potranno rincontrarsi che abbiamo chiamato scuola di quartiere dove loro possono partecipare, possono dire quali sono le cose che vorrebbero cambiare, come le vorrebbero cambiare e provare a progettare insieme il futuro, il nuovo futuro che loro vorrebbero anche per le prossime generazioni. Ancora per un po'